ragazze e ragazzi siamo di nuovo insieme eh con grande gioia tutti insieme per il giovedì eh della complessità del Complexity Institute e del Complexity Education Project. Allora stasera quinto incontro della serie che abbiamo titolato Complessità in azione otto leve per cambiare eh il mondo. Oggi parleremo in particolare della vita eh sociale che è il quinto principio eh del Global In Action Manifesto che è il manifesto che sta eh ispirando i nostri eh otto incontri perché è basato appunto su otto principi. Il quinto principio è quello della vita sociale. Vi leggo un pezzetto del manifesto. La vita sociale è tale se è fondata sulla fraternità. Il prendessi cura e la reciprocità. La reciprocità in particolare è l'elemento costitutivo e di giustizia delle relazioni umane e di rapporti intersoggettivi sono fondamentali per la generazione del benessere personale e eh sociale. Eh in questo quadro noi eh interpreteremo la eh serata di stasera e anche le nostre riflessioni. Per chi desidera approfondire i contenuti del Global In Action Manifesto vi ricordo il sito che è www.inactionmanifesto.com dove si possono leggere eh in esteso questi otto principi e se qualcuno lo desidera si può aderire sotto scrivendo. Allora in particolare stasera approfondiremo il tema dell'impatto del digitale sulla vita sociale. Tema di grandissima attualità come tutti voi sapete e sul quale io credo non mancheranno come dire non mancherà l'emergenza di tante domande che noi definiamo non banali. Si tratta di un tema che ehm mi è venuto di definire dai risvolti un po' come dire opachi eh nel senso che mh sui quali forse è è bene fare più luce ma io su questo non mi addentro perché credo che gli interventi dei nostri ospiti ehm saranno in questo senso veramente illuminanti. I due ospiti di stasera sono Barbara Caffagna e eh Alessandro Vespignani che sono collegati tra di noi che io ho saluto per noi è un onore oltre che veramente una grande gioia grande gratitudine per entrambi e ehm fra poco ve li andrò a presentare prima eh desidero ricordare a tutte le persone che sono qui con noi per la prima volta eh che questi eh questo ciclo di seminario organizzato al Complexity Institute che è un'associazione eh come molti di voi sanno che ha lo scopo di eh promuovere e diffondere la cultura della complessità e le sue eh pratiche soprattutto quelle che noi definiamo pratiche eh etiche di eh comportamento e di azione. Eh chi eh di voi desidera sostenere eh la nostra attività può iscriversi all'associazione ehm andando eh sul nostro sito www.complexityinstitute.it e seguendo le indicazioni che sono previsti nell'area eh soci. Questi queste serate sono organizzate in collaborazione col gruppo di ricerca eh e di studio del Complexity eh Education Project qui rappresentato stasera da Massimo non so se ci sia anche Valerio Eletti non siete tanti quindi eh non non ci ho fatto caso mi perdoni eh e mh niente vi siamo grati eh a chi vorrà sostenerci quindi un ringraziamento anticipato. Allora veniamo alla serata e dai nostri ospiti vi ripresento brevemente eh in iniziamo da Barbara Caffagna che è giornalista e conduttrice RAI realizza reportage per TV7 e speciale TG1 per RAI1 in particolare è autrice conduttrice di codice una trasmissione di seconda serata e di Infosfera che è una rubrica sul digitale. Eh Alessandro invece Alessandro Vespignani è direttore del Network Science Institute e professore presso la North Eastern University di Boston. Da diversi anni il suo lavoro è concentrato sulla diffusione delle malattie infettive eh lavorando a stretto contatto con il CDC e con le MS. Allora prima di dare la parola ai nostri due ospiti faccio il sommario del meeting e questo vale per tutti un po' la struttura della eh serata. Partiamo come al solito con la rubrica sempre devo dire la verità attesissima eh condotta da Enrico Cerni che con la sua parola emergente ci aprirà la strada al tema della ehm della serata. Dopo i cinque minuti eh di Enrico passerò la parola a a Barbara che avrà quindici minuti per la sua relazione e successivamente passerò la parola a Alessandro eh per la sua relazione di quindici minuti. Al termine ci sarà eh il quello che noi chiamiamo lo spazio per la domanda incrociata di approfondimento ehm eh fra eh i due relatori. Poi ci saranno circa venti minuti di domande che io filtrerò ai nostri due ospiti e saranno quelle da voi poste in chat. Per favore vi ricordo sempre di fare possibilmente domande brevi e di ehm dirci a chi desiderate che venga indirezzata la domanda dei nostri due ospiti. Ok? Eh se vi va vi ricordo anche o se desiderate potete mettere in chat le vostre considerazioni così come letture consigliate eh o documenti che ehm che desiderate eh postare in chat. Eh per finire dopo questi ehm venti minuti di botte e risposta abbiamo la seconda rubrica della serata condotta da Massimo eh ci sarà la sua agupuntura digitale del giovedì. Anche stasera so che ci stupirà come a solito e quindi preparatevi eh a questa eh seconda rubrica eh finale della serata. Non andatevene alla fine perché come a solito io vi eh preannuncerò gli ospiti ehm della eh prossima settimana. Allora a questo punto io vi auguro una serata di divertimento eh un buon ascolto e una buona partecipazione eh e direi che possiamo passare la parola a Enrico per la prima rubrica. Chi non può entrare a far parte di una comunità cioè chi non ha bisogno di nulla bastando a sé stesso non è parte di una città ma è una belva o un dio. Anche questa volta e poi chissà davvero perché la rubrica della parola emergente inizia da Aristotele. Me lo sono chiesto non c'è una ragione particolare sta accadendo così. Lui il filosofo educatore di Alessandro Magno su questo aveva le idee chiare. Chi non agisce come parte di una società o è una belva e quindi è estranea all'idea di umanità eh per bassezza o è un dio e quindi è una persona estranea all'idea di umanità per eh altezza per inarrivabile altezza. Quindi secondo Aristotele gli esseri umani erano per natura animali sociali e cioè è capaci di riconoscersi in quanto socii ovvero compagni alleati membri di un'associazione ampia come la terra in francese dicono eh camarade. Oltre che sociali cioè tendenti a vivere in società donne e uomini sono per natura anche socievoli e cioè tendenti a ricercare la compagnia dei propri simili o aggiungiamo noi abitanti del ventunesimo secolo anche la compagnia dei propri dissimili perché la diversità diceva D'Annunzio è sempre sirena del mondo. È sempre portatrice di stimoli, di aperture, di varchi, di nuovi sguardi che abbracciano ciò che non è mai stato visto prima. In greco per dire animale sociale Aristotele aveva usato la formula zoon politikon. In quello zoon ovviamente noi riconosciamo la stessa forma del italiano zoo e cioè il luogo in cui si osservano gli animali ma la parola zoon e quindi zoo ha la stessa radice, badate ben, di bios che significava vita. Ecco quindi che ad esempio da bios derivano biologia, biografia, bioritmo ma anche neologismi come biorobot o bioeconomia. Chissà se questa sera ne parleremo. Ecco dunque le parole bios e zoon sono parole sorelle. La nostra umanità, la nostra esistenza, il fatto di essere viventi è intrisa di animalità. La nostra energia, il nostro entusiasmo, il nostro desiderio sono la chiave del nostro essere animali e cioè soggetti dotati di anima da cui animali e quindi di respiro. Nell'aggettivo politikon ovviamente risuona il concetto di politica e cioè l'arte di governare e amministrare ciò che è comune a tutti. Nella politica rinveniamo ovviamente la polis sostantivo che disegnava la città. La città proprio, la città racchiusa dalle mura con i suoi palazzi, con la sua agora, la sua piazza inondata magari come in questi giorni dal sole di primavera. E noi questa sera per riflettere sull'impatto del digitale nella vita sociale ci ritroviamo esattamente in questa agora digitale, in questa piazza assolata dai nostri commenti, dai nostri sorrisi. Ci ritroviamo in questo luogo sghembo in cui le parole e l'ascolto sono insieme protagonisti esattamente come dovrebbe avvenire nelle polis ed esattamente come dovrebbe avvenire nella politica. e del resto, diceva Aristotele, chi non ha bisogno di nulla e basta se stesso non è parte di una città, ma è o una belva o un dio. A te Dario. Grazie Enrico, grazie bellissimo. Allora, allora io passo la parola adesso a Barbara, avviso tutti che poiché Barbara passerà dei piccoli video, se ci fosse qualche difficoltà nel passare i video dovrete avere un attimino di pazienza, mi auguro di no, ma vi voglio vi voglio avvisare insomma, quanto è diciamo la nostra è una comunità molto accogliente in questo senso. Allora, prego Barbara, a te. Allora, buonasera e anzitutto grazie per l'invito. A me già il nome dell'associazione piace moltissimo e quindi già solo per questo vi ringrazio per averla creata. E vorrei insomma dedicare un pochino questo intervento, io non sono una scienziata, anzi una formazione umanistica e ho appena twittato qualche giorno fa la frase con cui ha iniziato Enrico Cerni il suo intervento e sono una ex violinista, musicista, quindi non ho nessuna formazione scientifica e sono solo una giornalista che si occupa di società digitali. Quindi quello che io farò è farvi vedere un pochino con un certo realismo e senza tutta la la retorica che specialmente in questi in questi ultimi due tre anni ci mette un po' sempre la la stampa e l'informazione, quello che ho trovato in giro per il mondo avendo avuto la possibilità di girare molto. Ovviamente cercherò di declinare queste queste questo mio breve racconto su eh sul titolo del libro di Alessandro Vespignani l'algoritmo e l'oracolo. Eh perché? Perché è proprio veramente riassuntivo, riassume veramente un po' tutto tutta questa dimensione, sia la dimensione appunto di portato che si che si sta facendo sul digitale e sia poi la realtà. Eh anzitutto partiamo da una dimensione, avevo detto sociale ma che non può non interagire con una dimensione profondamente eh intima emotiva e individuale nel senso che eh tutto si sta traducendo in dati sia la nostra vita sociale e sia le nostre emozioni eh non dico i nostri sentimenti ma c'è anche chi così vorrebbe un trasformare eh Tinder in una urbanizzazione sentimentale diciamo delle città quindi diciamo tutto eh non c'è spazio che in questo momento non venga immaginato o pensato come tradotto in dati. Naturalmente lo sviluppo delle piattaforme digitali influisce profondamente sulle trasformazioni urbane partendo appunto dal sociale delle delle città o comunque delle aggregazioni urbane attraverso questa tendenza a convergere in un modello che viene chiamato ormai da vent'anni smart city questo termine diciamo così che eh c'è un po' stoffato a tutti però eh non è mai stato modificato così come il termine intelligenza artificiale e dentro ognuno ci mette un po' quello che vuole. Eh diciamo che appunto utilizziamo il termine smart city come penetrazione pervasiva del digitale nell'ambiente urbano soprattutto delle città diciamo che eh le culture più radicali che ho potuto visitare soprattutto quelle un po' meno democratiche hanno interpretato immediatamente il concetto di smart city come costruiamo delle città assolutamente vuote e assolutamente nuove da zero nel vuoto in maniera totalmente intelligente. Questo coincide un po' con l'idea che è espressa nel libro di eh di Alessandro Vespignani della volontà sempre di controllare tutto cioè il presente e il futuro. Allora sì partiamo da zero e costruiamo da zero. Io sono stata due volte a Masdar City questa città appunto che hanno costruito nel deserto eh negli Emirati Arabi città peraltro popolata eh per sempre per voler diciamo sì controllare ancora meglio eh nell'immaginario dove essere popolata soltanto da scienziati e ricercatori dove essere la città totalmente sostenibili sostenibile e totalmente smart quindi lì ho avuto la possibilità di prendere la mia prima auto autonoma ho visto funzionare tutto con i pannelli solari risultato sono tornata dopo tre anni non aveva funzionato niente a livello sociale hanno dato miliardi di spiegazioni a questo a questo fenomeno ma non ve lo dico al c'è questo fallimento diciamo sociale che fosse piantata in mezzo a un deserto che ci fossero solo scienziati che comunque gli emiliatini hanno ancora una cultura tribale per cui l'avevano portata lì dentro oppure nel mondo scientifico che non era di quel tipo mille però nulla regge se pensiamo che anche Songdo nella Corea del Sud che era un esperimento altrettanto radicale ha fallito soprattutto c'è anche lì un'idea di tristezza insomma di gelo totale mi dicono perché non l'ho visitata ero in partenza nonostante il covid per Neom che è quella dell'Arabia Saudita che adesso stanno progettando per costruirla sempre da zero e l'Italia partecipa con tanti investimenti ecco anche perché Renzi c'è andato in Arabia Saudita tra il mare e la montagna per non commettere lo stesso errore di Masdar City però appunto non sono più potuta partire sia per ragioni di diplomatiche diciamo così legate a tutto il caos scoppiato intorno a Rezzi ma conto di andarci entro l'estate sia per ragioni di covid appunto di nuovi lockdown e quarantene conto di andarci per cercare di capire se loro prendono in considerazione oppure se è un altro un po' uno show come è stato negli altri casi fatto sta che questa tendenza di partire da zero rasa al suolo non sta funzionando da nessuna parte quello che invece ha funzionato nelle culture asiatiche sono città che ho visitato come Singapore che ha creato un gov tech cioè avendo una tecnologia totalmente pervasiva eh con sensori ovunque arriva ad anticipare con comportamenti tutti i cittadini raccogliere i loro dati raccogliere i dati della città e ha creato questo gov tech che è una start up governativa diciamo semplifico molto eh eh una start up governativa che utilizza degli algoritmi governativi che consentono da un lato se vogliamo parlare in termini politici al presidente che diciamo siamo in una democrazia per modo di dire non è proprio una democrazia se volesse il presidente fare qualcosa di nocivo per la società in qualche modo gli algoritmi lo fermerebbero perché lo prevederebbero e quindi non è più diciamo non democratica come poteva esserlo prima dall'altro si è spostato un po' questo fattore di controllo e volontà predittiva nel tentare di operare anticipando i comportamenti dei cittadini e intervenendo prima che le cose accadano faccio un esempio più stupido sono andato con un un mio amico lo scienziato dei materiali delle PFR di Lausanna che quando era all'Ementi di Boston ha contribuito a creare il sistema un suo studente cinese era affannatissimo perché il rettore dell'Università l'aveva chiamato lui aveva paura di essere mandato via di aver fatto perché era l'imprevisto che per lui era terrorizzante alla fine gli hanno dato una casa più grande perché lì viene assegnata dallo Stato gli hanno dato la macchina esattamente che lui voleva e gli hanno trovato una un lavoro per per sua moglie cosa era successo che lui non si avrà mai era successo che loro avevano intercettato delle mail dal rettore di Pechino e questo studente era di origine cinese avevano capito dalle sue ricerche e dalle ricerche della moglie che la moglie aspettava un bambino avevano paura che lui tornasse a Pechino perché la moglie voleva magari far crescere questo bambino con in famiglia tutte cose che non erano avvenute poi nella realtà di questa persona e avevano visto anche le ricerche della macchina che voleva e quindi in qualche modo questo nudging cioè questa spinta gentile sul comportamento attraverso l'algoritmo lo aveva diciamo aveva anticipato la possibile richiesta da parte di Pechino di riaverlo in Cina e se l'hanno tenuto perché era molto bravo questo avviene in tutto quando c'ero io per esempio c'era Obama e sono andata due volte praticamente la macchina di Obama doveva passare in una strada immediatamente se io ero con insomma il cameraman nella stessa strada il barco aumentava il prezzo cioè per passare lì sotto dovevo pagare 60 euro quindi non ci passavo questo è molto simbolico appunto di come loro utilizzassero e utilizzino i eh gli algoritmi e i dati altra città di questo tipo è eh Dubai eh che sta cercando appunto di imitare in qualche modo Singapore in tutti i modi pur essendo una cultura tribale ma con il settanta per cento degli immigrati e loro appunto hanno creato addirittura questo police eye mi hanno fatto vedere la città messa come sul su uno smartphone con tutte le app eccetera eccetera questo polisai che è l'occhio della polizia in cui ognuno può in veramente un click far diventare il suo telefono una videocamera per la polizia se qualcuno non ha eh diciamo così ha un comportamento che non è conforme a ciò che eh la città vuole che sia il comportamento specialmente di tutti gli expat quindi questo vale anche molto di più per i residenti che per eh gli stranieri lì c'è un sistema di intelligenza artificiale che viene come un oracolo per l'appunto interrogato da chiunque voglia entrare e aprire un'attività a Dubai per esempio io voglio andare lì aprire un negozio posto d'estetista e chiamo e mi fermo di fronte a questa a questo computer che c'è per la città che si chiama saad cioè felicità cioè la felicità è che la città ti risponda una volta interrogata sotto forma di intelligenza artificiale qual è il posto migliore dove ci sono meno meno studi estetici dove ce n'è più bisogno se vuoi un un posto dove batte il sole oppure che in ombra qual è il clima perfetto qual è la sicurezza se hai dei figli quanto è vicino alla scuola dei figli cioè la felicità è in qualche modo l'efficienza la terza città e poi mi fermo e mando appunto il primo filmato è Seul che eh è una è più democratica delle altre due e eh ha avuto questo sindaco veramente in gamba che purtroppo è deceduto quest'anno che ha creato addirittura un sistema di partecipazione dei cittadini vista proprio l'iper connettività della della città eh che mh diciamo così sia di partecipazione basato tutto sul gaming cioè lui voleva addirittura e adesso forse qualcuno farà al posto suo creare il token cioè il gettone della città se tu avevi delle idee positive per la gestione della città venivi ricompensato con il token della città lì è addirittura un luogo dove le blockchain i token oggi non so se avete sentito i not fungible token lì sono girati già una marea perché loro già hanno tutto impostato su questo termine di di diciamo di tokenizzazione del legata a bitcoin o alla moneta ufficiale comunque di gestione attraverso una ricompensa di valore che sia un gettone e anche il gruppo BTS che è il famoso gruppo pop dei ragazzini coreani ha il suo token con cui si può anche pagare l'albergo a seul ho incontrato eh questa associazione il capo di responsabile di questa associazione si chiama Wigo eh che praticamente vuole far vedere il il vuole confederare una lega ansiatica diciamo tutte le città le smart city che producono più dati in tutto il mondo e e qui vi faccio vedere il primo servizio scusate scusa Barbara perché sono già passati più di dieci minuti ti regoli tu sui video da mandare io non so la lunghezza però è ammortizzato è una minucina personale faccio solo la parte delle città no 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 basta che ti regoli tu nel non eh ampliare troppo perché al limite poi dopo eh può essere troppo lungo grazie grazie prego prego nel medioevo in europa del nord c'era la liga ansiatica un network di città che trovava beneficio dall'alleanza a volte avevano in comune armi per difendersi ma poi le città facevano business per se stesse Wigo vuole creare un'alleanza basata sulla condivisione dei dati e della visione tra le smart cities di tutto il mondo una contemporanea lega ansiatica per l'era digitale Wigo nata nove anni fa seul è un'organizzazione internazionale di città e aziende che vogliono far crescere le smart cities del mondo e creare un'alleanza basata sulla condivisione dei dati le città che aderiscono sono 160 più 20 aziende tecnologiche le smart city sono costruite da pubblico e privato nella stessa misura cosa cambia questo per la politica e la governance le città e i governi sono in competizione i governi da soli non possono fare niente se non provvedere all'ambiente sono i privati banche aziende società di ict a fare tutto il gov tech cerca nella tecnologia le soluzioni per facilitare la vita e il business dei cittadini per rilasciare servizi digitali e favorire la produttività per costruire i processi e la pubblica amministrazione sugli algoritmi noi siamo pronti a rivoluzionare politica e governo attraverso i big data per prendere parte alla quarta rivoluzione industriale dobbiamo implementare alcuni strumenti intelligenza artificiale internet degli oggetti big data e block chain i risultati tangibili vengono solo delle aziende private e la gente lo capisce è una ppp public private partnership certo i privati cercano di imporre i loro prodotti che non sempre sono necessari e ben voluti e vogliono un ritorno troppo grande e questo può essere un problema ho pensato allora che si possa imporre come forza una quarta p people i cittadini che partecipano attraverso l'app civic participation system le aziende ne devono tenere conto se guardiamo da internet possiamo considerare le città o le grandi aziende come piattaforme di dati con il 5g la tecnologia che verrà adottata prima dai grandi centri urbani e solo poi dalle province campagne le cosiddette città intelligenti nei prossimi anni moltiplicheranno i loro dati in modo esponenziale proiettandosi nel futuro e lasciando ognuna nel passato la nazione di appartenenza secondo la geografia dei dati le smart city sono nuove nazioni indipendenti dai confini nazionali in un certo senso sì già oggi i governi municipali hanno autorità piani regolatori e budget indipendenti ecco questo diciamo così è l'immaginario questa efficienza loro la chiamano tutti felicità per noi non lo è per niente perché comunque queste queste città non è che producano dei cittadini più felici all'interno e poi mi chiudo il mio intervento di queste città vivono cittadini le cui come dicevo all'inizio emozioni vengono sempre più digitalizzate e sempre più estraendo dei dati vengono anche influenzate in qualche modo influenzati i loro comportamenti nel dettaglio saltiamo il secondo video scusa massimo andiamo direttamente al terzo che porta direttamente al discorso appunto dell'oracolo che poi lascio alessandro vespignani è possibile che un sistema di intelligenza artificiale riconosca le mie emozioni le mie reazioni alla realtà che percepisco e che possa un giorno riprodurle manipolarle influenzando il mio modo di sentire e forse addirittura arrivare ad esprimerle sono affascinata e spaventata allo stesso tempo sono andata a trovare javier hernandez nel media lab dell'mit di boston il nome di questo tipo di ricerca è tutto un programma si parla di affective computing l'affective computing si occupa di leggere le emozioni umane simularle manipolarle e offrire supporto alle persone ci sono molti modi per leggere le emozioni possiamo studiare gli ormoni a partire da campioni di saliva o capelli ma possiamo anche osservare i cambiamenti fisiologici di comportamento le espressioni facciali il modo di parlare il colorito del viso abbiamo già delle app sul telefono che possono monitorare il battito cardiaco e la respirazione poi osserviamo il comportamento per esempio come interagiamo col nostro smartphone e con i social network questa tecnologia è in grado di capire se stai sorridendo o no è molto semplice qui c'è uno specchio empatico col quale puoi guardarti prova a sorridere ed ecco che lo specchio ti sorride c'è anche un indicatore della felicità media delle persone di fronte allo specchio all the people in front of the camera questo sistema può essere installato davanti alla vetrina di un negozio in un ospedale in un'università in un'azienda per rilevare l'umore dei passanti ma può essere utilizzato anche su voi che siete a casa se adesso volessi sapere come si sentono i telespettatori con una telecamera potrei leggere le loro espressioni e capire se stanno aggradendo o meno il programma o se sono confusi o distratti con un sistema simile potremmo raccogliere informazioni per creare dei programmi televisivi più interessanti al contempo qualcuno potrebbe utilizzare tecnologie simili per scopi meno nobili ad esempio studiando le emozioni degli spettatori a loro insaputa per profilarli e mostrare contenuti pubblicitari più personalizzati indossando tutti i device a disposizione ben cinque posso usufruire di un vero e proprio oracolo che mi può anticipare l'umore del giorno successivo posso infatti capire esattamente cosa e chi mi stressa di più in base ai risultati cercare di evitare alcune persone o alcuni comportamenti hernandez ci spiega come questo strumento applicato a una camicia o alla giacca ci permette di registrare le immagini di tutto ciò che circonda una persona ogni 30 secondi si possono poi incrociare le informazioni con i dati fisiologici provenienti da uno smartwatch e capire quindi cosa o chi stressa maggiormente il soggetto lo stress solitamente si accumula nel tempo noi con questi sensori possiamo cogliere i primi segnali e suggerire al soggetto di ridurre i comportamenti o le frequentazioni per lui nocive ecco secondo me questa realtà un po' è stata frenata dal covid che se uno degli aspetti positivi di questa disgrazia è stato un po' farci rientrare in noi stessi anche come comunità mediterranee ma appunto questo poi farà parte del dibattito ok grazie barbara sei riuscita a rientrare tranquillamente ehm nei tempi grazie grazie bellissimo ok alessandro tocca a te vai allora io cerco adesso di allacciarmi a a quello che ha detto barbara che come al solito lo ha fatto con il potere poi della della testimonianza che è sempre molto molto forte eh questi video poi sono in qualche modo ci portano dentro quel tipo di realtà molto di più di qualunque eh racconto o parola possiamo scrivere in un libro tra l'altro non mi ero messo d'accordo con eh con barbara grazie mille di aver letto il libro questa è una di quelle cose che per chi scrive non si sa mai se uno realmente lo lo poi ha riuscito a a ad avere dei dei lettori di di che che possono in qualche modo poi prendere il materiale e anche eh relazionarlo a quello che è il loro il loro lavoro eh io cerco di di partire da da quello che diciamo che 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 barbara ha ha mostrato e cercare proprio di ricollegarlo un pochino alla complessità che poi è la mia radice scientifica e quindi di cercare di rimetterlo sul sul binario di ma che c'entra la complessità con questo mondo algoritmico con questa con questa realtà che stiamo costruendo allora io qui adesso provo a fare il mio sharing dello schermo che dovrei riuscire a fare e e e se voi riuscite a vedere quello che io ho messo online eh vi eh cerco in questi quindici minuti un pochino di 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 prendere alcuni spunti delle cose di barbara e di eh di regarli in qualche modo appunto rispetto al alla alla parte scientifica al quello che è stato il cammino scientifico eh e qui è vero barbara lo diceva io lo dico sempre in realtà tutto quello che noi facciamo secondo me viene dal fatto che come si dice qua in america noi siamo dei control freak di natura cioè noi siamo sempre l'uomo è ossessionato dal controllo eh quello che abbiamo cercato di fare da quando eravamo nelle nelle diciamo nelle caverne e abbiamo cominciato a imparare eh a gestire il fuoco è cercare un controllo del mondo esterno quindi in qualche modo riuscire eh a a proteggerci a sopravvivere proprio attraverso il controllo e se uno ci pensa il controllo più sofisticato che abbiamo è quello della predizione in qualche modo e qui entrano gli algoritmi sia nel senso predittivo sia nel senso costruttivo cioè quello di avere un mondo intorno a noi che è costruito su quelli che sono i nostri bisogni ed è in qualche modo completamente prevedibile addirittura a livello di prevedere come di prevedere come raccontava Barbara i bisogni di persone che tu vuoi tenere sul lavoro cioè di quale macchina gli posso comprare se io lo riesco a per prima mi muovo mi muovo e riesco a controllare anche quel anche le altre persone in qualche modo e tutto questo però scientificamente diciamo noi per per circa duemila anni abbiamo avuto questa ossessione del controllo che ha costruito la scienza dei fenomeni naturali e quindi in qualche modo straordinario noi possiamo fare le previsioni delle eclissi di luna e di sole possiamo fare la traiettoria degli uragani ingegnerizzare un aereo prima che ne montiamo un pezzo all'interno di un computer e tutto questo in qualche modo è controllo è un controllo fortissimo e in più appunto la digitalizzazione adesso lo ha reso addirittura in qualche modo una una un valore una commodity che abbiamo abbiamo su tutti i nostri device e quel qualche modo si è sviluppato ancora è una cosa un po' diversa era invece tutto quello che in qualche modo fuggiva scappava al alle scienze naturali cioè tutto quello dove in realtà entra pesantemente quello che chiamiamo ma anche se un po' impropriamente qui c'è ancora tante discussioni tra social scientist e natural scientist l'atomo sociale cioè l'individuo e quindi poi in qualche modo ci si fermava sempre con con spesso con obiezioni del tipo ma però in realtà poi l'atomo sociale è assolutamente diverso dall'atomo fisico a il mettiamola così tra virgolette libero arbitrio cioè le nostre scelte le nostre infinite dimensioni cognitive psicologiche sociali eccetera e quindi non è poi predecibile non è ingabbiabile all'interno di una serie di equazioni matematiche o di algoritmi specifici beh qui è dove però la scienza della complessità in qualche modo diventa l'enabler diventa quello che permette in qualche modo invece di muoversi dentro una teoria algoritmica predittiva anche dei sistemi sociali cosa fa la la scienza della complessità in modo semplice io qui poi parlando in ad un gruppo di persone che sicuramente conosce bene la complessità è l'uccisione del mito della peregina cioè l'uccisione del leader l'uccisione dell'idea che tutto quello che noi facciamo viene dal nostro pensiero razionale dalle da interazioni ultra complesse e così via in realtà qui c'è questo è un semplice disegnino che 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 ho fatto che in realtà riassume in maniera molto povera quelle che sono le teorie di di der kelbing che è un fisico tedesco che per primo riuscì a caratterizzare un fenomeno molto semplice che succede in tutti i supermercati e in tutti i centri commerciali del mondo se voi andate all'inizio la gente si muove tutta disordinata dopo mezz'ora voi vedrete che praticamente si creano delle delle corsie cioè su un lato si va tutti in una direzione sull'altro più o meno si va tutti nell'altra e addirittura c'è tutta una branca dell'architettura che è come mettere degli ostacoli come vedete quelle tre colonne proprio perché quegli ostacoli possono favorire o sfavorire la formazione di queste di queste di queste corsie di questo comportamento collettivo che diventa prevedibile allora qui uno dice ma come fanno perché si sono coordinati c'è un qualcosa no questo è qualcosa che conosciamo dai tempi dello studio delle popolazioni animali del degli uccelli delle dei pesci cioè in realtà ci sono gli individui seguono un semplice algoritmo che è basato sulla verificità la evitare le altre persone e fondamentalmente collegarsi facendo una media di quello che fanno gli altri e uniformandosi a quella media in modo di non creare disordine questo già permette di avere un fenomeno emergente di questo tipo possiamo andare avanti su cose molto più complicate io non voglio entrare nelle storie tipo modello di Schelling che fu il primo modello negli anni settanta che mostrò come si possono avere dei fenomeni di segregazione ma non perché le persone sono raziste ma anche nel solamente perché tu vuoi avere invece intorno a te un sistema in cui ci siano individui di due tipi dove tu una preferenza ma già questo in realtà crea una polarizzazione della della società quindi in qualche modo cosa fa la teoria della complessità la teoria della complessità ci apre al fatto che in realtà molto di quello che vediamo anche i sistemi sociali è dato da un comportamento che può essere algoritmizzato può essere matematizzato che è basato su delle regole su dei comportamenti di mimesi su cose che in realtà noi pensiamo abbiamo pensato per molto tempo essere molto molto eh forti e e personali e invece in realtà eh si svolgono come succedono nel mondo dei sistemi naturali questo ha permesso la costruzione di tutta quell'approccio teorico che adesso si basa e noi chiamiamo dei mondi artificiali cioè di usare enormi simulazioni che permettono però di non solo simulare il comportamento per quanto riguarda la strada la viabilità appunto poi l'uso delle città tutto questo l'uso l'idea dello smart city è in realtà basata estremamente su concetti che vengono dalla complessità e da come possono ritornare indietro proprio agli algoritmi in una serie di meccanismi di feedback ma proprio anche in realtà per tutto quello che è il conflitto eh l'immaginare l'evoluzione di una pandemia perché c'è anche il comportamento delle persone all'interno e così via cioè questo dà un enorme potere previsione previsionale che è costruito all'interno di modelli dove l'atomo sociale è rappresentato esplicitamente oh qui però c'è la prima cosa che dobbiamo dire cioè in qualche modo qui è dove la complessità rientra però poi come problema cioè da una parte la complessità ci aiuta ad aprire la porta verso questi modelli previsionali dall'altra la complessità invece ci diventa il limite stesso di questi modelli previsionali e perché beh il primo perché c'è intanto abbiamo consapevolmente incertezza su condizioni iniziali su quali modelli possiamo usare tutto questo è una cosa ma poi c'è una stocasticità di fondo dei fenomeni cioè è vero che c'è una stocasticità e poi c'è in realtà un'enorme non linearità di questi fenomeni cioè c'è il fatto che sono basati su un pensiero che non risponde a quello che noi normalmente abbiamo in mente di principio di azione e reazione questo crea sì che fa sì che queste previsioni non sono infinite non sono deterministiche ma sono probabilistiche hanno degli orizzonti temporali vanno costantemente riaggiornate o dov'è che appunto noi abbiamo che il pensiero non lineare non funziona nei sistemi complessi e quindi diventa un problema per esempio noi abbiamo dei sistemi in cui una perturbazione infinitesima può avviare dei comportamenti macroscopici enormi e invece in altri casi una perturbazione molto molto grande viene riassorbita dal sistema c'è un rischio sistemico che è stato chiarificato da tutto quello che è la teoria delle reti degli ultimi vent'anni in cui ovviamente le interazioni sono così complicate che per esempio il rischio le perturbazioni lo spreading dell'informazione funziona in maniera assolutamente non lineare o io quando parlo di non lineare parlo un pochino di quello che è il principio di azione e reazione che noi impariamo biologicamente quando siamo bambini cioè quando noi impariamo a attraversare la strada sappiamo che se la macchina arriva a cento chilometri all'ora percorrerà una certa quantità di strada e che se qualcuno mi prova a dare un colpo con un cazzotto ad una certa velocità mi devo tirare indietro perché io so qual è la cosa tutto questo in realtà è quello che non funziona cioè questa linearità non c'è i sistemi purtroppo complessi sono un enorme agglomerato di non linearità di fenomeni emergenti fenomeni emergenti insospettabili per cui e qui diventa molto importante dobbiamo di nuovo ricorrere al pensiero computazionale cioè invece di andare a guardare spesso questi sistemi in una maniera che è analitica come abbiamo fatto per centinaia di anni dobbiamo usare il computer proprio come un laboratorio cioè questi sistemi questi mondi artificiali che abbiamo creato per in qualche modo prevedere la realtà circostante diventano poi anche il nostro laboratorio per studiare la realtà circostante per fare delle prove per una specie di macroscopio in cui noi abbiamo una comprensione del sistema a livello globale che possiamo raggiungere solo attraverso degli esperimenti che spesso non possiamo permetterci di fare nella 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 società reale e questo quindi ha creato ancora di più accelerazione su quella che è la parte algoritmica di descrizione della realtà e di interazione con la realtà è cominciata anche e qui purtroppo con l'intelligenza artificiale un'estrazione di significato dai dati e dai modelli che però poi si è trasformata spesso in quelle che poi noi chiamiamo scatole nere cioè un'estrazione di significato e dati da questi modelli che però è comprensibile solo alle macchine e non a noi questo è un problema che spesso rimane molto grande e va al di là di quello che è l'aspetto diciamo poi della della complessità che andiamo a discutere ma che rimane forte perché in realtà ci sono delle verità nascoste all'interno del nostro della nostra esplorazione algoritmica della realtà che ancora non riusciamo proprio a comprendere quindi c'è in realtà un un problema scientifico qual è poi il grande altro limite di questa di di questi modelli e di questo di questa visione che appunto il limite della complessità è proprio il meccanismo di eh azione reazione di feedback che la società ha con qualunque predizione noi facciamo cioè se noi facciamo una predizione dell'uragano l'uragano se ne eh se ne se ne non non si non ha assolutamente se non se ne importa di che cosa prevediamo e continuerà la sua la sua traiettoria a seconda di quello che è il è scritto nelle leggi naturali se invece noi abbiamo un un algoritmo che ci permette di comprendere il futuro di un sistema sociale e questa comprensione viene messa a disposizione degli uomini gli uomini agiranno rispetto a quella comprensione a quelle previsioni e quindi ovviamente esercitano un cambiamento della traiettoria quindi questi algoritmi cosa fanno loro creano delle mappe del futuro poi noi ci muoviamo su queste mappe del futuro e ovviamente l'algoritmo deve ricominciare a stabilire quale sarà di nuovo una mappa del futuro vedete che paradossalmente l'algoritmo diventa una parte del sistema acquisisce una specie di di coscienza di se stesso diventa una parte di 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 sensorialità è è è dentro è dentro questa 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 questo questo meccanismo di di interazione allora qui la complessità diventa grande per ora ne abbiamo parlato negli ultimi tre minuti proprio cerco di dirvi di riagganciarmi e avere la stessa scaletta cioè parliamo di complessità di previsioni spesso a livello di città di urbanizzazione di sistema di diffusione di una pandemia a livello globale pensando che non sia possibile invece oramai fare previsioni sull'individuo il problema è che invece arriviamo e siamo come diceva anche barbara arrivati alla previsione sull'individuo cioè noi al di là di tutto quello che è i racconti di fantascienza dove la il problema degli algoritmi sono i robot buoni o i robot cattivi qui in realtà noi siamo già entrati in una maniera assolutamente non plateale in un presente che è determinato algoritmicamente per tutti noi a livello dei singoli cioè intanto noi riusciamo a fare previsioni si fanno previsioni costantemente enormi cioè lo studio della di vermont university dove si è harvard dove si vede che guardando un account di instagram è possibile avere una una previsione di per persone che sono soggette a crisi depressive guardando ai filtri che vengono usati per postare le foto è una delle cose più inquietanti allo stesso tempo poi medicalmente più utili che si possono sviluppare il fatto che guardando su facebook ai vostri contatti e come vi muovete come la vostra rete di amicizie si si sta modulando si ci si riescano ad avere delle previsioni del rischio di divorzio di persone sposate anche quella è un'altra cosa che spesso è stata dileggiata come una cosa come un divertisma diventa una cosa che ha un potere economico predittivo per chi fa advertising perché fa cose enorme noi siamo avvolti nelle predizioni che oramai non ce ne rendiamo più perché qualunque cosa ci suggerisce ci viene suggerita da algoritmi che di nuovo non guardano a noi ed è qui che di nuovo la complessità rientra questi algoritmi hanno cominciato a funzionare una decina d'anni fa perché non guardano più a noi guardano la nostra rete di contatti guardano a scavare quei dati che vengono dalla complessità dalla nostra interazione con gli altri e dalle similitudini con gli altri questi algoritmi perdono assolutamente efficacia se non sono e se non guardano al sistema nella sua interezza e qui proprio per cercare di chiudere non andare oltre questi algoritmi che appunto oramai sono per i libri vanno anche su un su cose che sono molto io lo dico bisogna stare molto attenti perché e qui anche lì credo Barbara ne abbia parlato tante volte in trasmissione realtà se non si ha consapevolezza e ancora adesso quando noi andiamo in banca a chiedere il mutuo ci vestiamo un po bene per fare buona impressione alla persona che in banca con cui noi andiamo a interagire è forse invece il momento che si prenda consapevolezza che la banca la persona con cui interagiamo non dire non deciderà nulla ma c'è una serie di algoritmi che deciderà se noi abbiamo un mutuo o no allo stesso modo adesso purtroppo ci sono algoritmi che decidono cosa succede se tu puoi essere rilasciato su cauzione o no e ci sono algoritmi che decidono se assumere o no certe persone per alcuni profili quindi andiamo su cose molto che entrano nella nostra vita in una maniera molto pervasiva io faccio un ultimo esempio ad esempio ci sono gli algoritmi adesso che prevedono riescono a prevedere quante copie vende un libro sono algoritmi che lavorano su delle cose bellissime che ha fatto un mio collega che è al piano di sopra e si chiama l'aslo barabaci che si occupa di quella che si chiama la 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 teoria del successo dove tu puoi prendere le vendite che fa un libro come il mio che ovviamente sono pochissime e poi prendere dan brown che vende milioni di libri però se tu misuri alcune cose queste due curve hanno un comportamento universale che può essere riscalato uno sull'altro e da quello in realtà quindi misurando alcune cose tu poi riesci a fare diciamo il back il calcolo inverso e riuscire a capire quante copie venderà un libro poi ci metti dentro del machine learning vai all'aspetto al passo dopo e non solo riesci a capire quante che tipo di vendite puoi avere ma addirittura che quale qual quel tipo di libro con un certo tipo di sinossi eccetera eccetera può essere incastrato all'interno di questi di questi modelli cosa succede questo diventa un problema enorme se voi ci pensate che diventa di nuovo il problema di prima del meccanismo di feedback ma all'inverso di nuovo complessità secondo me nella sua bellezza essenziale cioè qui andiamo sul fatto che in qualche modo stiamo creando un sistema che diventa una profezia che si auto avvera perché se io ho un libro e ho un'idea e l'algoritmo dirà che quel libro non funziona quel libro non verrà mai pubblicato e quindi in qualche modo noi entriamo in un sistema in cui automaticamente diventa anche impossibile cogliere se questi algoritmi poi a un certo punto sbagliano o no perché appunto diventano profezie che si auto avverano quindi noi entriamo in una specie di di lock down però molto più concettuale di dove entriamo e questo si ha però in mille effetti e ce l'abbiamo con tutto quello che è la storia delle camere delle camere d'eco su internet cioè il fatto che noi creiamo delle realtà di raccomandazione di recommend in system per esempio sulle nostre letture eccetera che ingabbiano e possono diventare appunto per questi meccanismi di feedback che si rinforzano dei problemi molto molto grandi ora tutto questo qual è il pericolo grande che emerge tutto questo qui mi piace di citare steven strokatz che è un matematico che si occupa di queste cose è che purtroppo noi ci stiamo muovendo in società in cui in qualche modo sempre di più in qualche modo assumiamo che l'oracolo questi algoritmi sono realmente degli oracoli cioè non sono dei pezzi di codice e delle teorie che noi uomini mettiamo dentro e che quindi rispecchiano anche i nostri bias la nostra interpretazione del mondo e che si risentono in tutti questi meccanismi di feedback complessi ma in qualche modo in realtà hanno una verità che è che è univoca questo è secondo me una delle cose più diciamo più pericolose che può succedere e in questo senso appunto poi quando mi viene chiesto sempre e qui chiudo qual è la ricetta per uscire da ciò beh la ricetta in realtà non c'è in maniera ordinata poi ne possiamo parlare per altre dieci ore quello che serve invece l'unica cosa che ci può aiutare è proprio la consapevolezza in questo senso vedete i programmi come quelli di barbara che portano la consapevolezza dentro la casa della gente è l'unica cosa che ci può permettere di non cadere veramente in una situazione dove questo tipo di tecnologia dove questo tipo di di divisione del mondo diventa diventa oscura io mi fermo qui ho parlato e credo sono sforato di quattro e cinque minuti e me ne dispiace grazie mille grazie alessandro sì hai sforato un pochino ma diciamo ti perdoniamo facciamo così eh perdonato alessandro adesso abbiamo allora aiutatemi eh adesso con un con una domanda incrociata molto veloce eh io direi alessandro incominciato con barbara che barbara eh è stata un po' qui e quindi dobbiamo eh diciamo subito farla parlare una domanda impertinente possibilmente no io guarda più che impertinente secondo me è una domanda che è la mia grande curiosità del 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 suo rapporto con appunto con questo mondo cioè la mia domanda scusatemi però diventa una domanda di vita cioè perché lei ha deciso di mettersi in questa missione che diventa una missione forte come come dice lei cioè lei in qualche modo si sta di come voi sapete ci sono tutti questi evangelisti no che appunto in realtà predicano il mondo algoritmico lei in qualche modo è diventata un evangelista della consapevolezza di questo mondo algoritmico come sei arrivata e qual è appunto la tua sensazione di impatto col tuo lavoro in un paese come l'Italia cioè cosa secondo te cosa sta succedendo le persone riescono a capire cosa sta succedendo stiamo ancora navigando in in un mondo dove in realtà la maggior parte degli individui non ha queste bussole e come mai tu hai deciso di di sposarti questa questa missione in qualche modo io credo che appartenga un pochino alla alla mia natura cioè io non appartengo e quindi ci deve essere qualcosa invece nel senso per esempio io non riesco mai a fare carriera come si dice faccio un sacco di cose ma resto sempre ferma perché perché non appartengo al sistema che diciamo così poi porta a far fare carriera non appartengo a una a un credo di nessun tipo nel senso che sono una gnostica non sono religiosa tendo a non credere quando ho visto un po insorgere questo mondo che all'inizio in Italia è stato portato veramente una chiave solo commerciale e diciamo su una cultura che eh io seguivo facendo io facevo esteri cronaca eh per cui andavo da cercare di capire perché un popolo intero avesse seguito Pol Pot nel suo delirio e poi la risposta me l'ha data il digitale con Singapore e a a studiare casi cronaca nera e cercare di introdurre il neuroscienziato al posto dell'esorcista perché all'epoca noi avevamo criminologi esorcisti eccetera riportando lo scienziato quando ho visto appunto emergere questo mondo che veniva portato in Italia con una chiave di racconto e anche di politica solo commerciale perché erano riusciti a convincere anche l'allora ministra che un po' se ne occupava ed era la la madia insomma sul fronte digitale di eh tutte logiche che erano solo commerciali c'erano solo quelle di Google erano solo quelle di delle della narrazione delle startup che in Italia se tu vinci al totocalcio in certe zone del sud ti suicidi perché esci della comunità in qualche modo eh ho ho tirato fuori questo aspetto per cui non appartengo la risposta un po' complicata però è l'unica cosa vera e ho cominciato a non appartenere a questa narrazione non appartenendo mi andavo sempre più conto che stava prendendo piede e poi io sono cresciuta proprio di infanzia come fosse un fratello come fossero due fratelli con Luciano Floridi che è un filosofo che poi ho scoperto mentre studiavo il digitale si occupava di 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 questi temi e in questa chiave un po' scettica verso le logiche commerciali eh in un'epoca in cui appunto tutto andava in quella direzione e con suo fratello che è un un invece che è stato il mio primo fidanzato ma che è un diacono e quindi è profondamente credente quindi un logico e un diacono secondo me sono stata fortemente influenzata da questa da questa diciamo dire formazione personale e quindi ho cominciato a occuparmi del digitale perché ci ho visto sia tutte le potenzialità che visto l'impatto che aveva avuto in questa fase di in cui tutti vedevano solo la parte commerciale la prendevano come fosse una seconda religione perché la Singularity University cercava di fare delle logiche commerciali del digitale quasi una forma di eh religione quindi lo vedevo vedevo questo aspetto qui sia l'aspetto logico e di cyber security che prima Luciano poi gli israeliani perché sono stato sette volte in Israele e anche per conto mio in ferie a studiare ci ho incontrato Barabasi che incontro da per tutto il mondo vado a singapore contro l'iro ma ha spiegato anche lui un sacco di cose e ho capito che diciamo che la politica sarebbe stata completamente stravolta l'essere umano sarebbe stato stravolto che la rivoluzione non era una quarta una rivoluzione industriale del 4.0 ma una rivoluzione umana ci ho ritrovato un po' le mie origini di studi umanistici e mi sono buttata proprio per passione naturalmente in un'azienda in cui vedevano solo il lato commerciale oppure la consideravano una cosa del tutto irrisoria perché seguivano soltanto la politica tradizionale ho cominciato a sempre senza far carriera senza appartenere senza niente a farmi questo spazio me l'hanno lasciato volentieri purché lasciassi la cronaca e gli esteri che per loro erano più importanti io ho capito che potevo approfittare diciamo di questa cattiva intervenzione e ho fatto crescere questa cosa non da sola perché conosco i miei limiti ho scelto 5 6 7 persone ho cominciato a creare con loro una serie di prodotti quello su raiuno il sabato mattina del poster all'inizio girato appunto nella casa del diacono che nel frattempo ha sposato la principessa doria pampili prendevo il canocchiale di galileo e spiegavo il satellite di copernico con battiston spiegavo tutta una serie di cose con tutti i valori che trovavo là dentro immaginate il museo doria pampili di tutto per cui vedo i simboli del passato li riportavo nel digitale poi con gli speciali del tg1 tv7 ho cominciato a viaggiare e poi ne ho fatto così un prodotto di tante persone perché pensato da tutti quelli che che lo pensano come che barabasi ha influito tantissimo su un sacco di puntate anche se non c'era fisicamente ma c'era lo stesso e così poi è nato sono nati questa questa passione per rendere consapevoli gli altri ecco c'è il follow up e la consapevolezza secondo te sta io vi devo chiedere alessandro io vi devo chiedere comunque di provare essere molto sintetici per passarvi qualche domanda dei partecipanti che comunque ci tengono a sentire voi cosa ne pensate su alcuni argomenti allora la tua domanda alessandro alessandro sarà velocissimo nella risposta vai allora io la mia domanda è stata stimolata un po dalla dalla questione dell'ape regina cioè alla fine quindi cos'è l'ape regina alla luce di un sistema complesso cioè quindi modifico la domanda cos'è la leadership la leadership questa è una domanda bellissima su cui discutiamo ancora in molti casi la leadership non non esiste cioè un leader emerge ma come ne potrebbero emergere cioè uno si diventerà leader ma ce ne potrebbero essere altri cento qualunque che vengono selezionati come leader perché il sistema ha bisogno in quel momento e si auto auto definisce rispetto a quella a quella sua esigenza in realtà se lo guardi dal punto di vista degli insetti realmente la pregina non è non c'è cioè non non esiste cioè in realtà tutto quello che avviene sono fenomeni collettivi di 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 emergenza eh cioè loro si coordinano su su con 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 un certo tipo di segnali eh che in realtà sono pochi una ventina di di cioè cioè sì ci sono questi fenomeni ci sono un un certo numero limitato di interazioni che possono avere e questo basta a creare delle delle società eh di di enorme complessità dal punto di vista la leadership è il leader secondo me è molto casuale detto tra di noi cioè quello che emerge è che eh l'idea che c'è il leader bravo e per cui lui è riuscito a pilotare il sistema in quella direzione io sono sempre molto di più dell'idea che sia il sistema che ha pilotato il leader e in qualche modo lo ha scelto lo ha fatto diventare cioè è realmente il la persona persona sì la persona giusta ma al momento giusto nel posto giusto per quello che serviva al sistema in quel momento io ho molta meno eh tendenza a pensare realmente al all'individuo singolo che cambia completamente riesce a direzionare il sistema però questo per se parliamo di una certa serie di fenomeni poi ovviamente eh eh c'è la produzione culturale intellettuale eccetera anche lì però poi ritorniamo nella solita anche lì possiamo avere mille mille discussioni su questo per esempio le scoperte scientifiche no quanto realmente è la per il genio singolo o in realtà non c'era intorno un sistema che aveva già completamente creato i presupposti perché arrivasse una persona che poteva essere non pinco ma poteva essere pallo che 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 poi diceva quelle cose e quindi apriva in qualche modo una porta nuova questo adesso mi porti in un in un territorio io su questo cerco sempre di essere rispettoso delle delle poi del eh delle prerogative eh scientifiche di preparazione io non sono un filosofo e quindi non voglio entrare in questo tipo di discussione dal punto di vista però proprio della complessità e dei fenomeni emergenti se tu pensi a tutto quello che quello che uno può ottenere in termini di spiegazione della polarizzazione dove in realtà i leader della polarizzazione non sono non sono loro che definiscono la polarizzazione in qualche modo ma sono il frutto della polarizzazione sia un esempio abbastanza buono di che cosa sia un fenomeno un fenomeno emergente eh dopodiché sì possiamo discutere infinitamente io lo 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 dico sempre secondo me è molto bello anche se è molto convoluto come lo dice io eh non so se pensate a guerra e pace guerra e pace che è un libro bellissimo di di appunto travolgente di amore guerra e cose poi ci stanno gli ultimi quattro capitoli di guerra e pace che probabilmente un l'un per cento delle persone legge pensate che lì è bellissimo Tolstoi parla della storia come un sistema complesso e dell'idea appunto di quanto in realtà appunto lui parlando usando Napoleone come tipico leader per per dire quanto in realtà Napoleone non era stato leader ma era stato solamente l'espressione fondamentalmente di un di una convulsione storica collettiva quindi diciamo se andiamo poi su questo tipo di 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 visione più letteraria ci sono tante tante cose si possono dire io purtroppo poi per mia cosa Barbara quello che cerco è ti posso dire mille esempi in cui non c'è una leadership perché posso naturalmente scrivere le equazioni dove viene ed emerge che non c'è una una leadership ma quel fenomeno è qualche cosa di di più collettivo sempre mi fermo mi fermo che vedo 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 Dario preoccupatissimo no no non sono preoccupatissimo vedo che si stanno scatenando nella chat perché capito avete affrontato argomenti ehm cioè questi sono argomenti che si dibattono anche molto a livello organizzativo no no di eh emerging organization cioè anche anche se le organizzazioni sono emergenti no al di là di quello che ne siamo abituati quindi di leadership emergente e quindi hanno hanno si sono sbizzarriti però io direi una cosa vorrei intanto recuperare un po' di domande che vi hanno fatto all'inizio perché altrimenti chi ha fatto le domande all'inizio si sente un po' eh abbandonato invece mi piacerebbe eh riprendere le domande dell'inizio eh alcune domande iniziali e eh io incomincierei da eh da Barbara eh c'è una domanda interessantissima che forse la prima che è stata fatta da Valerio eh che dice sono curiosa anch'io ci sono notizie su chi progetta e realizza gli algoritmi per le smart cities eh di cui hai parlato cioè se sono asiatici, americani, giapponesi, russi, cioè chi sono queste persone? Ne sai qualcosa? Dipende da chiaramente dalla città eh Singapore c'è un forte governo, una forte eh impronta dello stesso governo ma sappiamo che poi è una città di quattro etnie e che diciamo che è stata un po' il il playground del delle MIT di Boston per certi versi e quindi di fatto sono stati gli altri a impostarla e poi dopo gli altri se ne sono appropriati e hanno cercato di farlo loro ma per dire nella loro struttura che progetta algoritmi governativi ci sono tre italiani verissimi per dire. però è chiaro che all'inizio cioè il DARPA tutti questi qui servizi varie e in quella zona americani il contrario ovviamente in Cina eh cioè è chiaro che sicuramente dietro all'inizio quantomeno quando molti erano inconsapevoli ci sono eh sistemi di di anche di intelligence oltre che di sperimentazione scientifica. grazie. Benissimo. Una domanda per te Alessandro. Metto insieme due domande. Beh qui c'è eh la questione dell'osservatore dell'algoritmo no? Tutto quello che poi tu hai sviluppato per portarlo poi alla profezia che si è autoavvira. ma la domanda è questa eh che mi pongono sia eh eh Alberto eh che eh un'altra persona ehm il fatto che l'osservatore influenzi in qualche modo la definizione dell'algoritmo eh non è un limite stesso dell'algoritmo e della predizione e quali sono gli effetti di questo limite secondo te? eh gli effetti di questo limite sono che noi eh cioè l'osservatore che 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 in qualche modo guarda gli effetti dell'algoritmo e lo 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 vanno lo vanno a disturbare eh sono parte di questo appunto di questo ciclo di di meccanismi di reazione azione reazione che rappresentano il limite secondo me forte dell'orizzonte temporale di questi algoritmi eh una cosa va detta quando parliamo di questi algoritmi che rappresentano diciamo più l'evoluzione dei sistemi sociali pandemie conflitti eccetera eh molto spesso si fa l'analogia tra fenomeni del eh del caos in meteorologia e questi sistemi dice non si possono fare presioni a lungo termine per cose caotiche in realtà questo non è completamente vero perché le scale temporali di quei di 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 quei processi sono tali per cui in realtà uno potrebbe avere predizioni molto più lunghe in realtà la finestra temporale viene determinata proprio da da quello che veniva domandato cioè dal fatto che ci sia questo 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 eh questo feedback loop del del di noi osservatori dell'algoritmo e quindi in qualche modo di fruitori e e che che cambiamo la realtà secondo di quello che ci viene detto cambiando quindi poi quello che l'algoritmo deve deve ingerire e e poterci dire per il futuro successivo questo però diciamo che è un problema che non io non vorrei che diventasse una una come dire la definizione di oddio ma allora non si possono fare le previsioni le previsioni si possono sempre fare basta definire qual è la scala temporale su cui si fanno le previsioni poi il problema qui adesso sarebbe lunghissimo e bisognerebbe veramente in tempo di covid spenderci del tempo fare la differenza tra previsione e in realtà proiezione cioè una cosa è una cosa è una previsione la previsione se io ti dico quello che succede con un certo confidence interval tra tre giorni quattro giorni tre settimane un'altra cosa è se io ti dico guarda queste sono mappe del futuro tra sei mesi un anno eh questi scenari quello sono altre sono eh sono cose molto 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 diverse e a seconda di quello di cui parliamo diciamo questo orizzonte temporale questa validità del 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 modello e degli algoritmi che vengono usati cambia drasticamente eh questo per esempio con covid l'avete visto tutti per un anno e mezzo che la diciamo la persona media soprattutto senza eh figuriamoci Barbara è uno degli esempi appunto di eccellenza ma in realtà purtroppo sui media non è così molti giornalisti secondo me non sono preparati e dopo un anno e mezzo ancora capito si non si riesce a capire la differenza tra la previsione e gli scenari che vengono fatti per questa dannata pandemia e quindi l'idea che invece comunicando anche in una maniera sbagliata quello che è l'algoritmo stesso ti sta dicendo perché se tu comunichi uno scenario che ti dà delle mappe del futuro ma lo comunichi come una cosa deterministica che si avvererà non stai facendo capire alle persone che in realtà il loro comportamento le scelte politiche eh le 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 scelte di intervento cambieranno invece quel futuro mentre invece se io ti dico la previsione è quella vuol dire questo succederà e quindi abbiamo due mondi diversi ci si è mossi in maniera assolutamente diversa in tutte le le unità di crisi tra quelle che erano le previsioni a una due tre quattro settimane e quello che poi erano gli scenari non si è capito in una situazione come la pandemia che comunque può essere più facile da comprendere pensa te quando parliamo di gestione dei conflitti del di di economia parliamo delle grandi migrazioni cioè lì si entra in un mondo dove appunto la differenza da previsione e e e e scenario è enorme e sicuramente quella la domanda è assolutamente pertinente è vero cioè noi osservatori di quello che ci viene detto dall'algoritmo lo cambiamo cambiamo i risultati grazie Alessandro eh Barbara a te ehm una domanda interessante io le sto scegliendo ovviamente quindi mi perdonatemi voi che mi ascoltate non riuscirò a fare tutto eh quindi scelgo scelgo influenzo le domande ovviamente c'è la domanda di Nicola Granà che mi sembra molto interessante estremizzando WeGo eh la tecnologia che interconnette le smart cities può portare a rivedere i concetti di confine di territorio di ente territoriale? Cosa ne pensi? Sì io penso che l'abbia in fondo già fatto e poi il covid ha ricambiato ancora la situazione perché piano piano si stanno creando anche delle alleanze tra paesi digitali diciamo eh cioè si sovrapponevano queste enormi piattaforme che erano un po' potere pari alla Cina e anche un'ampiezza forse ormai pari alla Cina ai confini geografici in qualche modo li spaccavano e si potevano creare delle alleanze tra di diverse aree cioè non so potremmo mettere il Canada in Europa per una serie di valori democratici diciamo comunque di base di idee e tirar fuori la Russia e metterla insieme a un altro paese che sta fisicamente in un'altra parte e l'esserci rirradicati nei territori eh da un lato diciamo ha aumentato la connessione digitale quindi questo mondo ha fatto un passo avanti specialmente in Italia dall'altro ci ha comunque ricreato invece la consapevolezza delle abitudini anche biologiche allora qui c'era l'altra domanda sempre che mi era stata fatta sui villaggi bordi eh boeri eccetera sicuramente ci sarà all'inizio c'è un un empowerment cioè vengono potenziati eh potenziate ripotenziate le comunità che sono state riguardate con occhi diversi e anche i villaggi eh i nostri borghi medievali eccetera perlomeno in una prima fase poi c'è quest'idea della città a quindici minuti che però c'è che ogni cosa in cui ogni cosa deve essere a quindici minuti che è un po' simile all'idea del villaggio ma ricreata nella città come ambiente fisico sono tutte cose però che sono un po' figlie del borbo della della pandemia quindi noi non sappiamo secondo me non so se se si avvereranno le le profezie di boeri le profezie di ratti che sono diverse tra loro peraltro cioè se si creeranno per esempio contro l'eco chamber delle aree di conflitto urbano in cui incontrare invece chi la pensa diversamente da te cioè sono tutte anche queste delle ipotesi come ipotesi possono cambiare gli scenari e noi non sappiamo diciamo così quali eh quali siano poi le 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 risposte eh giuste che abbiano e stessero già cambiando i confini sicuramente sì anche linguisticamente parliamo tutti inglese cioè grazie eh allora una domanda un'ultima domanda Alessandro poi un'altra domanda Barbara prima di concludere Alessandro ehm qui scelgo fra le varie eh quella di Elisa eh come domanda eh i modelli predittivi prendono come riferimento la nostra identità digitale eh secondo Elisa che non coincide però con la nostra identità reale ehm questo non dà eh diciamo come dire non stiamo dando un'importanza un'importanza eccessiva a questa identità digitale rispetto a questa a quella reale e cosa comporta questo in termini di conseguenze sulla nostra vita sociale guarda questa è una domanda molto molto bella il problema qua eh diventa appunto va al di là della complessità diventa di nuovo un problema un po' filosofico ed è quello eh siamo proprio convinti che la nostra realtà digitale sia diversa dalla realtà dalla dalla vita io questo non lo so nel senso che non è così banale cioè non è un scontato dirlo eh è vero noi abbiamo rappresentazioni di noi stesse diverse sui social network nelle nostre interazioni in alcune eh però che sia impossibile una ricostruzione dell'individuo a partire da tante informazioni che possono essere prese nel nostro comportamento digitale eh bisogna andarci piano secondo me si può ricostruire molto certo ci può essere la finzione cioè ci possono essere individui che giocano proprio a eh ad avere un altro personaggio eh questo può essere però secondo me dobbiamo non dobbiamo dimenticarci che eh ci sono cose semplici eh ci sono cose semplici eh puoi costruire un personaggio diverso ma poi alla fine non è che ti metti a guardare in televisione serie televisive che non ti piacciono perché vuoi fare creare un altro personaggio no? Non compri su Amazon dei prodotti che non ti piacciono perché vuoi creare un altro personaggio eh non usi la tua carta di credito in una maniera per nascondere a meno che non appunto non non sei Jason Bourne lo fa per lavoro però di 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 cioè quello che facciamo alla fine poi noi facciamo talmente tanto di noi stessi nel nel digitale che non è solamente le nostre conversazioni su Twitter o i nostri posting su Facebook cioè c'è molto 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 di più tutto questo messo eh diciamo eh un pezzettino sull'altro come hanno già fatto vedere in varie cose dove tutto questo è stato fatto sempre in maniera più o meno illegale in teoria non si dovrebbe poter fare eh in realtà ricostruisce poi i tratti di personalità e i nostri nostre la nostra visione del mondo i nostri valori del mondo in maniera abbastanza adeguata sempre in maniera statistica tutto questo poi ricordiamoci che non è importante dire ciò io voglio avere il cento per cento di 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 riuscita avere una riuscita dell'ottanta per cento sono sono ben benchmark altissimi se io riesco a sapere appunto eh è quello che ci diciamo sempre Amazon tante volte ci consiglia delle cose che sono delle 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 stupidaggini però nella maggior parte dei casi ci ci prende ed è il motivo per cui poi alla fine Amazon è eh è il vincitore lasciando io lo dico questo lo dico sempre vedete questa storia che Amazon vince perché c'ha la grande catena di distribuzione quella è veramente guardare solamente un pezzettino del problema ma Amazon vince perché ci legge dentro la testa i bisogni poi dopodiché se vogliamo far finta di niente o no è un problema nostro però quello quello è la cosa va bene grazie prima di fare l'ultima domanda Barbara vi chiedo questo eh noi poiché ci sono state moltissime domande eh perché avete stimolato moltissimo eh la nostra diciamo eh comunità di ascoltatori e partecipanti noi normalmente giriamo eh la chat a tutti la giriamo anche a voi eh forse ci sono delle domande anzi certamente ci sono delle domande alle quali io che io non ho potuto farvi qualora aveste eh desiderio e possibilità eh di rispondere ad alcune di queste domande che non sono quelle che vi ho posto se vi va ci mandate eh queste brevi risposte noi le giriamo a tutti quanti ma è una cosa che eh se eh desiderate se potete fare allora l'ultima domanda qui sono molto combattuto eh ma io ti farò una domanda sulla politica a questo punto visto che tu eh ehm sei molto felice di parlare di politica mh la domanda che ci fanno in molti eh la domanda che ci fanno in molti eh e in particolare Guido ti leggo quella di Guido perché è la più sintetica qual è la consapevolezza e la sensibilità dei politici rispetto a questa rivoluzione e a queste conseguenze e ti aggiungerei un'altra domanda la leggo io questa eh che è quella di Marcella eh Marcella dice come può la tecnologia tornare in mano alle persone io leggo questi due eh aspetti perché credo che dipenda molto anche eh dall'approccio politico che avremo alla tecnologia a quello quindi le domande sono queste a te l'ultima diciamo risposta sì la domanda che mi aveva fatto Alessandro cioè eh non c'è stata una grossa presa di consapevolezza se non a macchia di leopardo in Italia eh quelli che hanno fatto e fanno più resistenza a una consapevolezza reale sono proprio le classi dirigenti oltre diciamo così a quelli più emotivi gli haters così qui però eh eh quelli che appunto non hanno consapevolezza però comunque reagiscono sul tema da parte della classe dirigente c'è stata una una un grande freno e soprattutto anche da parte della classe politica che aveva veramente il potere ma anche per esempio all'interno dei cinque stelle che hanno usato il sistema su come funzionassero su come funzionassero imbracciata anche dagli stessi personaggi che magari avevano prima imbracciato la parte neoliberista ipercommerciale viene imbracciato il digitale inconsapevolezza perdiamo in dei in dei momenti Barbara eccomi mi sentite adesso abbiamo perso un po' eh vabbè comunque non c'è stata una grossa presa di consapevolezza adesso eh la stanno prendendo per forza eh perché comunque diciamo c'è c'è da prendere delle decisioni eh abbastanza immediate eh non non c'è stata una fortissima resistenza perché secondo me inconsciamente il politico vede il limite del suo potere e il suo limite personale cioè non abbiamo una classe politica di persone che poi ha eh hanno studiato così tanto da riuscire a capire questa materia per cui vedono la loro fine nel digitale questo sia nelle classi dirigenti aziendali che nelle classi politiche questa è stata la situazione fino a prima della pandemia adesso l'hanno un po' imbracciata diciamo e quindi eh l'hanno imbracciata ma non non c'è un assolutamente una direzione la direzione la prenderà l'Europa qual era la seconda domanda che c'avevi? La domanda era collegata e quindi come eh si può fare in modo che la tecnologia torni un po' in mano alle persone cioè che ehm diciamo vabbè insomma è chiaro. Questo è un grosso dibattito ci sono delle persone che stanno facendo un lavoro eccelso ma non sono mai messe in primo piano se non non lo dico perché però io cerco invece di portarle alla ribalta però restano assolutamente in secondo piano ci sono stati un sacco di esperimenti pilota anche in Europa eh per ridare in mano ai cittadini i dati eccetera eccetera hanno fallito quasi tutti quindi non abbiamo neanche trovato una soluzione Kleinrock studia la decentralizzazione come sistema ma dice che riuscivano a trovare qualche qualche soluzione forse molto ma molto più avanti viene usato il digitale ancora in politica come un attivismo mentre l'Europa sta cercando di fare con i digital act con Gaia X eh il GDPR adesso estenderà una group privacy adesso servirà anche la neuro privacy cioè di rendere privati quei dati che servono ai neuroscienziati come il fatto che noi prendiamo decisioni non so quanti millesimi di secondo prima che vengano prese da 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 che cioè prima che ne siamo consapevoli della decisione che abbiamo preso e e e quindi diciamo è l'Europa che sta facendo un grosso lavoro per questo ma anche tutti questi attivismi tutte queste cose che anche a me hanno entusiasmato all'inizio arriviamo ai cittadini dati facciamo eh le piattaforme eh non stanno funzionando non hanno mai funzionato finora nessuno è andato bene il regolatorio riuscirà in qualche modo a a far sì che funzioni quindi non si è riusciti a disintermediare diciamo con la politica e la media la mediazione del regolatorio europea al momento sembra essere una una buona soluzione grazie allora eh siamo un pochino in ritardo ma è stato bellissimo grazie Barbara grazie Alessandro eh prima però di lasciarci io ehm passo la parola a Massimo che gestirà la rubrica finale della sera prego Massimo. Allora eccoci Dario chiudiamo con la rubrica acopunture digitali in cui in pochi minuti finali attraverso visualizzazione dati e simulazioni cerchiamo di eh introdurre e creare piccoli momenti di consapevolezza su alcune dinamiche della scienza della complessità. Questa sera in particolare chiuderemo cercando di eh vedere come la propagazione dei fenomeni eh avviene all'interno di di un sistema e complesso. Ora partiamo con la sigla. Allora come sempre partiamo da una domanda di cui vi darò la risposta solo tra qualche minuto eh parliamo di browser abbiamo parlato di tecnologia molto più in profondità questa sera però vi chiedo di provare a rispondere ehm dal suo lancio a fine duemila otto il browser Chrome in quanto tempo è diventato il browser più utilizzato? Provate a pensarci e provate a rispondere quattro anni, sei anni, sette anni ehm ora vedremo brevemente una simulazione quindi pensateci ancora un attimo se vi va segnatevi la risposta e poi ci torneremo tra poco. Allora questa sera abbiamo il piacere di avere Alessandro io mi mi addentro un attimo oso parlare di di reti anche insieme a lui eh possiamo rappresentare un sistema complesso in forma di nodi e connessioni. Nell'immagine che vi mostro i nodi sono appunto i cerchi e le connessioni tra due elementi sono le linee che vedete in questa figura. Alcuni nodi nella simulazione che vedremo tra poco possono essere attivi o possiamo dire anche infetti. La stessa rete la possiamo rappresentare anche sotto forma leggermente diversa come il reticolo. Qui vediamo al centro sempre il nostro il nostro nodo blu che è attivo che ha quattro vicini eh è in contatto connesso con un nodo sopra, uno sotto, uno a destra, uno a sinistra. Facciamo un altro piccolo salto e la stessa rete che vi mostro sulla sinistra. La possiamo rappresentare anche nel modo che vedete sulla destra. C'è come una griglia in cui il nodo centrale è il quadrato blu che vedete. Anche in questo caso il quadratino blu così come il cerchio sulla sinistra ha quattro vicini, ha quattro connessioni ai quattro lati. A questo punto passiamo alla parte un po' più interattiva. Allora eh vediamo allora scusate c'è pausa della condivisione, la devo rimettere, il bello della diretta, ecco qui. Allora è la stessa griglia che vi ho fatto vedere poco fa, possiamo vederla in modo interattivo, possiamo vedere come funziona e come si propaga un fenomeno all'interno di un sistema. Quindi in questo caso dal nodo iniziale che è attivo si può diffondere anche ai quadratini vicini. Però possiamo anche provare a ragionare su un modello probabilistico a partire dal nodo centrale in blu eh che inizialmente è attivo. In che modo i quadratini intorno che sono grigi e quindi sono disattivi eh si attiveranno? Qui abbiamo uno uno slider che ci un cursore ci consente di regolare questa probabilità. Quindi con un tasso di trasmissione del 40 per cento accadrà questo nel nostro sistema. Oppure io posso abbassare questa probabilità di trasmissione ad esempio al 25. Vediamo già che i quadratini che si attivano sono un po' meno. In questo caso il modello che c'è sotto è questa semplice simulazione SIS. Cioè i quadratini, gli elementi possono essere in due stati o grigi, quindi suscettibili perché il nodo non ha mai fatto quella cosa, non è attivo ma potrebbe diventarla. Ad esempio il nodo grigio potrebbe essere un utente che non utilizza il browser Chrome. Oppure il nodo blu in cui eh quel comportamento viene eh messo in pratica da quel soggetto. Quindi potrebbe essere un soggetto che utilizza quel browser per non parlare di infezioni e di virus. Però poi abbiamo anche i quadratini che possono ritornare grigi. Cioè nel momento in cui io non adotto più quel comportamento ritorno in stato suscettibile. Quindi abbiamo due stati possibili. E eh con questo modello SIS una rete relativamente piccola può tenere in vita il fenomeno complesso magari appunto anche l'adozione di un browser come dicevo un'infezione per eh molto tempo. Proviamo a giocare con eh questa probabilità e vediamo che eh qui anche il fenomeno è ancora attivo. Abbasso un po' il fenomeno sparisce. Quindi possiamo dire che c'è una certa soglia intorno a cui questo fenomeno continua a propagarsi e diffondersi oppure no. Facciamo un altro salto. Ci sono dei precisi tipping point. Cioè dei punti di non ritorno in ogni sistema. Io intanto faccio partire la simulazione mentre parlo ve la faccio vedere. Qui abbiamo un tasso di trasmissione del 33%. E questo ci permette di distinguere tra reti supercritiche e reti eh sotto soglia. Cioè c'è una soglia intorno a cui un fenomeno all'interno di un sistema complesso si continua a diffondere oppure si estingue. E questo punto di svolta è chiamato soglia critica ed è una caratteristica generale dei processi di diffusione in reti regolari. Ad esempio poi ovviamente in ogni rete questa soglia può essere diversa. Qui proviamo a giocare. Vediamo al 28% ancora il sistema eh il fenomeno si diffonde. Al 26 si diffonde ancora. Al 24 ancora. Prova a scendere al 22% con una piccola differenza nella probabilità. Il sistema dopo un po' scendiamo ancora. Il fenomeno si estingue. Quindi sotto la soglia critica siamo sicuri che ogni fenomeno infezione si potrebbe estinguere. Ma se siamo su valori intorno alla soglia critica. Io lo ho messo velocemente verso la fine. Oltre il tasso di trasmissione che qui ho messo al 29% abbiamo aggiunto un altro parametro. C'è il tasso di attivazione. Cosa significa? Significa che un quadratino può diventare blu anche se non è in contatto con un altro quadratino blu che già è attivo. Cioè si può autoattivare. E quindi qui vediamo io provo a giocare. Prova ad abbassare questo tasso di attivazione. Ma il fenomeno continua a propagarsi. Prova ad alzarlo. Ma non sembra cambiare tanto. Diciamo che non è quello che influenza la dinamica in modo determinante. Se però io provo ad abbassare di nuovo il mio tasso di trasmissione vediamo che il sistema cambia. Il fenomeno all'interno della rete si propaga in modo diverso. Quindi per fare una metafora è come cercare di appiccare un incendio in un campo bagnato oppure in uno secco. Nel primo caso in un campo bagnato dei piccoli fuochi si spegneranno senza possibilità di propagazione perché è un sistema che sta sotto soglia. Se invece una rete supercritica siamo sopra sopra questa soglia eh come ad esempio un campo molto secco quindi prova ad alzare questa soglia vediamo che basterà poco per scatenare un incendio. E lo stesso ad esempio accade per idee e invenzioni. Se il mondo non è pronto per un'idea cioè se è sotto soglia piccoli fuochi locali lo facciamo rivedere lo abbassiamo così non continueranno a propagarsi e quindi quell'idea non avrà successo. Ci sono idee magari come la scrittura come l'agricoltura che nella storia dell'uomo sono state inventate più volte ma prima di essere adottate è servito del tempo perché il tasso di trasmissione probabilmente non era abbastanza forte. Facciamo un ultimo passaggio e qui il modello è diverso non è più SIR ma è SIR in cui la R sta per eh rimuovere trovate dei quadratini grigi allargo un po' più grigio scuro che sono dei degli elementi che non possono più essere infettati. Abbiamo sempre i quadratini grigio chiaro che possono essere infettati o attivati, dei quadratini blu che sono i soggetti attivi e poi dei quadratini più grigio scuro che non possono più diventare attivi. Io faccio partire la simulazione e vediamo che appunto il fenomeno si espande ma può toccare solo i quadratini grigio chiaro e a seconda di come varia il parametro grigio scuro e quello dell'immunità vediamo che se io lo abbasso il fenomeno continua a espandersi. Se io invece questo tasso di immunità lo alzo e non sto cambiando il tasso di trasmissione che avevamo visto prima che è quello fondamentale, se io alzo ancora l'immunità pian piano il fenomeno si estingue o non è in grado di attraversare tutto il sistema. Quindi il tasso di immunità determina se la rete è subcritica o supercritica, se siamo sotto o sopra questa soglia. Ad esempio questo spiega il motivo per cui nelle aree boschive vengono lasciati degli spazi vuoti perché esattamente serve per evitare che un eventuale incendio locale diventi globale. Quindi ragioniamo un attimo anche sull'immunità di greggio di cui abbiamo molto sentito parlare. Ci consente questa immunità, che io adesso provo a riabbassare per vedere cosa succede, di far passare una rete da supercritica a subcritica, cioè di poter giocare con questo tasso di trasmissione. Se vacciniamo alcuni nodi di una rete e li facciamo diventare grigio scuro, so è removed, non consentono più, non è più possibile propagare l'infezione come prima, cioè quindi non sarà più in grado di riprodursi. Adesso mi fermo qui e io vi dovevo una risposta rispetto alla domanda che vi ho fatta all'inizio. Io vi faccio vedere una visualizzazione interattiva, un video in cui si vede il tasso di adozione dei browser. Partiamo dal 2008 in cui Internet Explorer aveva un tasso molto alto. Poi ad un certo punto spunta Chrome a fine 2009 e molto velocemente, per dei motivi che ora non stiamo più a spiegare, inizia ad essere adottato molto molto velocemente per motivi tecnici, per motivi sociali. Ed ecco, mi fermo qui. Poi qui va avanti, Chrome arriverà ad oltre due terzi dell'utilizzo. Va bene, una storia più recente che più o meno sappiamo. Quindi per quanto riguarda la domanda iniziale che vi avevo fatto, la risposta corretta era la... cioè quattro anni. Quindi qui in che modo voglio chiudere. Il sistema, la dinamica con cui si propagano i sistemi e i fenomeni all'interno dei sistemi dipende da una serie di parametri che la scienza delle reti ci consente di poter capire e spiegare meglio. E per chi vuole divertirsi con la simulazione che ho mostrato poco fa, vi ricordo che sul sito complexityeducation.com è già disponibile un articolo più lungo e dettagliato. e con questo vi saluto. Ti assumo al codice. A fare le visualizzazioni. Comunque posso chiudere con una cosa, l'osservazione. Oggi Draghi in conferenza stampa sui vaccini ha detto esattamente il contrario di quello che aveva detto Barabbas nell'intervista e gli avevo fatto sui vaccini che ancora non si erano trovati un anno fa. E quindi sarebbe interessantissimo capire se siccome con il vaccino non si diventa totalmente immuni a ragione Draghi, ragione per modo di dire, o viceversa. Comunque diciamo quello che ha detto oggi Draghi è esattamente l'opposto. Io non commento su cose di pandemia, però io invece volevo ringraziare tutti, soprattutto per le belle domande che ovviamente erano domande molto profonde, molto intelligenti, molto complesse da rispondere, per cui anche volevo dire qualunque risposta io abbia dato non voleva essere una risposta come dire autoritativa o di cui c'era una certezza, ma solamente un'opinione pronta a rivederla in qualunque consesso e discussione. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie Alessandro, grazie Barbara. Allora io finisco questa serata portandovi già prima di mandare Alessandro a fare una passeggiata nel pomeriggio, a lavorare nel pomeriggio, mentre a voi vi mando a Lettuccio, che si è fatta tardi, vi racconto un attimo dei nostri ospiti per la prossima settimana, parleremo della sfida dell'educazione, altro argomento veramente infocato in questo periodo, ne parleremo con la giornalista Angela Mariella, che è direttrice di Isoradio e con Alberto De Toni, che anche qui stasera con noi ci sta ascoltando, che è professore ordinario di ingegneria economico-gestionale all'Università di Udine ed è presidente della fondazione della conferenza nazionale dei reattori delle università italiane. Quindi da non perdere, ci vediamo giovedì prossimo, stessa rete, Complexity Institute.